mamma mia mamma mia mamma mia non riesco a stare fermo fermatemi fermatemi ok mi calmo un po d'ansia da prestazione perché sto per andare a fare il fantacalcio sono le 19.37 alle 8 in quarta arrivano le pizze la cosa più importante per l'asta alle 9 9 in quarto 9 e mezza quello che è si inizia siamo a due ore dall'inizio dell'asta io ho un obiettivo lo dico tranquillamente mi piacerebbe prendere cristiano ronaldo lo dico tranquillamente anche se sto ragionando solamente di cuore perché la testa mi dice gonzale guay se non addirittura ciro immobile però voglio prenderla di cuore voglio provare a prendere il meglio sul mercato per aver detto almeno un anno nella mia vita di aver fantallenato cristiano ronaldo non si sa mai il prossimo anno potrebbe essere ovunque quest'anno in serie a quest'anno è la mia juve voglio mettermi sul divano guardare la partita sapere di avere cristiano ronaldo sapere di poter essere contento il triplo il quarto il quintuplo il sesto il settuplo quello che volete voglio essere contento dei gol di cristiano ronaldo ancora di più ed è difficile ancora di più ho una strategia vediamo se riusciamo ad adattarla mamma mia andrò a letto alle 5 domani mattine alle 7 alla sveglia per andare a volare sarò uno zombie ma voglio provare a prendere cr7 obiettivo della serata dichiarato a voi ore 01 e 34 brainstorm la squadra brainstorm comunica ufficialmente di aver acquistato cristiano ronaldo come punta di diamante della prossima squadra alla fine ce l'ho fatta ronaldo 223 milioni battuto incredibilmente dai car di 230 i guain 202 milioni questi sono stati i prezzi ero indeciso tra ronaldo e guain sono contento di aver preso ronaldo a solo una ventina di credit in più anche se sono ancora convinto che pipita sarà il capo canoniere ma potrò guardare le partite della juve con la consapevolezza di avere cristiano ronaldo anche axel qua è molto contento di questa cosa non è vero proverò a mettervi qualche clip degli acquisti più importanti perché ho fatto una super squadrona a 8 è molto più facile rispetto a 10 avere una squadra veramente veramente forte in ogni reparto posso addirittura giocarmela con il modificatore avendo speso soltanto 50 credit tra porta e difensori ho fatto veramente una squadra che mi piace da impazzire ho preso tutti i giocatori che volevo bernardeschi cristiano ronaldo verdi simeone e luis alberto e insomma ci sono queste cinque squadra più tanti altri guardatevi la clip perché sono veramente contentissimo 4 mio io già lo so chiamiamo beriscia 1 7 tu ho detto ma non lascio mio no no e 10 11 albio al 1 11 bellini 3 10 chiamo luisa alberto per non farci mancare niente 42 46 tu ho chiamo federico bernardeschi berna 1 29 38 lascio ciciretti 3 mio 3 13 lascio verdi verdi 1 9 10 gemmai lì 1 puoi dire 2 5 io piscio nella parola ma è al loco un'accio il cazzo di chiamata è mandati in figa mandati in figa le vostre amare cristiano cento un'acchi cristiano quanta partite cento 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 uno allora io avevo detto che più di duecento non andavo quindi dico duecento perché è giusto così 201 cristiani forza vieni rinaldi cristiano 202 e rolando no e rolando sempre tir di pace che pilin ferio quanto ha aspetta fammi capire fammi capire ferio quanto ha figa ferio hai 245 te lo lasciamo eh ferio 202 per adesso avete lasciato tutti per il 209 lasciamo al si si te lo prendi dai si infatti dai no te non lo vuoi io lo faccio spendere è quello che ne hai più 202 fa la culo è poco 204 dai meno male se io vorrei che non potete prenderlo voi ah si è rimasti in due ma chi ha letoso 210 211 223 dai che mi è vero non è lascia quindi uno rimane sempre rimane là 223 su su smittoso 223 dimmi che non l'hai fatto solo per youtube ma vabbè stai scherzando ma dai si 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 no no quanti soldi hai speso 123 stiamo pensando c'è un ma vabbè io voglio Cristiano Ronaldo io voglio Cristiano Ronaldo o Counaci Cristiano Ronaldo io qualche pezzo e voi presi prima Counaci beh c'è però non era quello che volevo io te lo giuro cioè si era quello che volevo ma non è quello che penso che faccia più dopo però volevo guardare la partita sapendo che è Cristiano Ronaldo ci sta ci sta che venga in Italia te lo prendi dai ho detto il prossimo anno non so se c'è ancora lo voglio fantaminare o no tocca me Simeone è il ciolo lollo lollo io lasciarlo 27 30 aspetta aspetta 27 scusa 28 30 35 36 37 38 38 siamo 39 40 45 50 51 50 50 lasciamo anche noi fuori aspetta ce ne siamo ancora noi 51 ferio allora noi lasciamo quello che hai fatto possiamo anche noi adesso prenderai un giocatore 51 52 51 51 non gioca a spado 52 53 55 57 60 62 62 63 64 63 64 65 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 70 60 60 60 60 60 61 61 61 52 61 62 61 62 62 63 62 61 63 62 63 63 Che dire ragazzi mettete un mi piace immediatamente subito 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 per questo video per questo fantacalcio notturno in notturna ve la porto domani vado a lavorare voglio andare a letto ma sono veramente contento a fine anno vedremo come andrà e porterò aggiornamenti costanti ma non qui sul canale ma nel blog passate qui sotto in descrizione tutte le giornate verranno riassunte all'interno di un articolo nel blog. Quindi vi invito subito ad andare a controllare in descrizione tutti i miei social network dove anche lì ne parleremo tantissimo le storie su Instagram i post su Facebook ma soprattutto andate a visitare il blog perché sono contentissimo quest'anno Cristiano Ronaldo gioca nei Brainstorm. Sto finendo di editare il video per potervelo portare al prima possibile speravo di finirlo in pausa pranzo ma non è stata così ho fatto qualche scambio con i portieri perché mi ero accorto che Berisha non è più il titolare dell'Atalanta ma Gollini l'ha superato nelle gerarchie e quindi rimanere con Seculin, Sorrentino e Berisha non mi faceva sentire al sicuro quindi ho scambiato Berisha stesso per andare a prendere il portiere Gomis il titolare al momento della spalla. C'è in ballo un possibile acquisto di Scesni sacrificando Petagna che mi garantirebbe anche Perin andare a prendere da un altro concorrente ma non è ancora sicuro niente domani ci sarà un ultimo mentre suonano a casa mia un ultimo briefing di mercato per provare a concludere anche questa operazione. Vi terrò aggiornati come ho già detto sul blog passate qui sotto in descrizione vado ad aprire. Petardo Prendi petardo che borsa è lì che sta da merda Non lo può prendere borsa dai prendetelo Io lo faccio petardo a petagna A quanto? Uno Sei petardo? No 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 Sette O sono uno della scorsa molto a gozione? C'è ricchezza Dieci Mio petagna Cristiano ornaldo e petagna davanti insieme Uno fa le sponde e uno viene Esatto esatto Petagna fa le sponde e c'è la sette di gente Ma è petagna che va la Juve o quest'anno viene la sponda? Credo la seconda No Grazie a tutti